E salve a tutti ragazzi, ciao e benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un nuovo vlog particolare che ora vi spiegherò di cosa si tratta, farò questo bellissimo video e mi auguro che può andare successo questo video un sacco di visualizzazioni, mi auguro con tutto il mio cuore per ricominciare questo nuovissimo video lasciate tantissimi like e mi piace come sempre e continuate sempre a seguirmi e iscrivete al mio canale che è GabriGamer99 Allora vi spiegherò di cosa si tratta questo nuovo video e spero di fare tante visualizzazioni Allora, il vlog che farò si intitola il vlog dedicato al Santissimo Crucifisso di Monreale Quindi in questo video ci saranno alcuni video che avevo fatto la live più l'avevo registrato nel mio telefono mentre c'è la processione del Crucifisso, va bene? Spero che questo video potrà andare successo tanto tanto, ci spero tantissimo E niente, lasciate tanti like e commentate in questo video Che piace il signore E niente, vi auguro una buona visione, ci vediamo al prossimo video Evviva Patruzzo Amoruso! Grazie! Vi mando un bacio e al prossimo video Ciao ciao belli Ed eccomi in diretta su Facebook È uscito il Santissimo Crucifisso Fortunato a seguirmi sempre Una buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti